Simona da Casa Lattico, volontaria per l'orso Bruno Marsicano. Perché questa scelta? Perché l'orso Marsicano è importante che ci sia oggi, che ci sia nel futuro, per le prossime generazioni. Perché l'idea di camminare in un parco dove sappiamo che ha già camminato un orso è qualcosa di fantastico ed emozionante e per questo dobbiamo lavorare tutti insieme per la tutela dell'orso, di questo splendido esemplare che è l'orso Bruno Marsicano. Valeria D'Avezzano, volontaria per l'orso Bruno Marsicano. Perché questa scelta? Ma guarda, innanzitutto amo tantissimo e profondamente la natura, quindi l'idea di poter salvaguardare o comunque contribuire a tutelare una specie così importante come l'orso Bruno Marsicano è sicuramente una bellissima esperienza da fare. Inoltre, la giornata di oggi ci ha permesso appunto di condividere una passione comune e di rendere comunque più facile e agevolare quella che è la convivenza appunto tra essere umano e orso Bruno. Samuele, da Roma, volontario per l'orso Bruno Marsicano. Perché? Perché fa parte dell'ecosistema dell'Apenino Centrale e va salvaguardato.